Lo starter darà il suo segnale. Davanti a Whipstorm, Drag Queen, Next Way, Piccinet, My Sweet Music, Go North, Rasalgeti, Dina Sand. All'inizio della curva, in vantaggio Sword Interoc, davanti a Drag Queen, Whipstorm, Next Way, My Sweet Music, Piccinet, Marmotta. Poco prima dell'ingresso, addirittura, in vantaggio Sword Interoc, davanti a Drag Queen, Whipstorm e My Sweet Music. I cavalli entrano in vantaggio, con Sword Interoc, in vantaggio, davanti a Drag Queen, Next Way, lungo la corda, Piccinet, My Sweet Music, Whipstorm, e sempre in vantaggio, Sword Interoc, davanti a Next Way, Piccinet, Rasalgeti e Marmotta. E resiste Sword Interoc, davanti a Rasalgeti, Next Way e Marmotta. Eh sì, abbiamo discusso della posizione in curva, eccetera, eccetera, che si è rivelata esiziale per il recupero di Rasalgeti e fondamentale per la fuga, per la vittoria di Sword Interoc. Comunque il tuo Next Way.